Il pomeriggio abbiamo la partita di Burraco con il fregomeno e l'acqua fresca. C'è l'indacqueta. Il teatro dialettale ed il vernacolo hanno avuto sempre un grosso seguito di pubblico a Fano. Amatissima formula teatrale per raggiungere lo scopo di passare un paio di ore in spensieratezza e con lo scopo ben preciso di farsi due risate. Io la vendo sta discoteca, la vendo oschia se la vendo. Magari c'è messo una levamenda e cunili ma la vendo. Ed è questo il fine ultimo di tutte e due le compagnie che fanno parte della rassegna Cianfrusaglia. Fa da ridere con modi e con lo stile che le contraddistingue da sempre. Dialetto certo ma che potrebbe essere utilizzato sempre in forma comica anche per presentare testi di un po' più elevato spessore di trama e di sceneggiatura. Ma che forse non è nel DNA delle compagnie che prediligono invece uno stile immediato e percettibile dal pubblico ormai legato ai doppi sensi, neanche poi troppo celati, alle battute secche ed anche ben calzate, agli intrecci ingarbugliati ed alle chiusure con il colpo di scena. Ormai questo cliché consente di fare il tutto usaurito nelle date, cosa non da poco visti i costi di produzione, alle quali ormai sono costrette le compagnie, motivo probabilmente per il quale anche del risicato numero di allestimenti per la manifestazione, passata da ben sei compagnie a due di questa edizione che prenderà il via già da lunedì prossimo nell'ormai consueta cornice del Politeama dove ad aprire le danze sarà la compagnia del GAF. Durin perterti, siamo qui a presentare la nuova commedia, Troppa Grazia, Sant'Antoni. Effettivamente è vero, siamo rimaste soltanto due compagnie, anche perché le difficoltà sono tante per mettere insieme una commedia dal testo, ma noi quello lo facciamo in casa, quindi siamo agevolati. E poi le difficoltà burocratiche, amministrative, qui anche per fare una roba da poco, Dio mio, ce vuole un disastro. Però presentiamo la nostra nuova commedia che è la trentesima commedia, sempre con gli stessi criteri e noi vogliamo innanzitutto divertirci noi perché così riusciamo a trasmettere al pubblico il divertimento e le risate e speriamo che chi viene a vedere la nostra commedia si possa divertire. È una rassegna che serve anche per tramandare un po' il dialetto. Con tutta questa commistione di popoli, di razze e di generazioni nuove che magari più che parlare fra di loro parlano sul web, parlano su internet, forse certi termini, certe usanze si vanno a perdere. Però non vi preoccupate, da noi il dialetto rimane quello, anzi cerchiamo di rinverdirlo insomma. Quest'anno portiamo peggio di Daxi, speriamo che non sia il commento che fa il pubblico quando esce dallo spettacolo perché saremo in guai. A parte gli scherzi è un giallo, è la prima volta che facciamo un giallo, è una storia molto intrigante con molti colpi di scena, situazioni assurde che però sono molto divertenti. È un giallo che fa ridere. Quanti siete? Come è stata la lavorazione? Sono immagino che prove e quant'altro. Quest'anno siamo un po' meno degli scorsi anni, siamo 13 in scena. Comunque il lavoro è sempre molto impegnativo perché è un allestimento impegnativo nel senso che le scenografie sono state difficoltose, per la recitazione sono stati messi a dura prova sia per l'interpretazione sia perché il lavoro richiede un grande dispendio di energia fisica. Comunque il divertimento non manca mai, soprattutto anche il vostro. Sì, certamente. È la cosa che ci manda avanti e che finora è stata la molla che ci ha spinto sempre. Soldato, che adesso fai subito in salia che te farà veda tutto, te farà veda tutto, 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 tutto. Ma è che è tutto?